e buongiorno da cucina di francusa oggi facciamo il rongo vedete rongo questo pesce qua è tipo un'anguilla un'anguilla bella grossa guardate guardate quanta carne c'è tipo un'anguilla da voi noi lo chiamiamo qua lo chiamano rongo un rongo quindi adesso andiamo a cucinare qui nella pentola questo è già lavato bello sistemato lo vado a mettere nella pentola andiamo a mettere tutti i condimenti di odori vado a mettere fuoco metto l'olio cipolla metà cipolla uno spizzo d'aglio vi faccio vedere tutto al momento è come quando cuciniamo noi a casa questo lo metto tutto perché il pesce senza l'aglio è morto quindi a sapore ci deve essere prezzemolo pomodorini tutto paro si fa tutto paro vuol dire tutto metti tutto dentro poi mettiamo un bicchiere d'acqua facciamo cuocere vedete che piatto buonissimo che riesce quindi da mettere il pepe un po' di origano sale e via guardate e adesso lo facciamo cuocere metto lo copercio poi ogni tanto lo giriamo poi si mette pure un po' di vino bianco eh così a posta di acqua mettiamo un po' di vino bianco lo facciamo cuocere quindi andiamo a mettere un po' di vino bianco così metto il coperchio e ci vediamo dopo qua e qua e ci vediamo ora andiamo a girare piano piano così così bene è saporito saporito no ed eccolo qua eh questo è cotto adesso lo spegniamo e lo andiamo a impiattare ed eccolo qua vedete che bello? quindi amiche mie se vi è piaciuta questa ricetta mi raccomando fatelo condividete il video anzi tutti i video tocca condividiti quindi un bacio grande dalla vostra francusa ciao e buon appetito a tutti